Carissimi, è il Vescovo Pietro che vi parla. Sono in ansia per la sorte degli anziani di Villa Mercede. Ho saputo da un familiare di uno degli anziani che si trova lì, che in questo momento i nostri carissimi nonni stanno vivendo un momento difficile, una situazione di grande disagio, innanzitutto perché non hanno più la possibilità di essere assistiti dai nostri carissimi operatori che con tanta amabilità, io ne sono testimone, in questi anni si sono presi cura di loro, ma anche perché ci sono situazioni effettive di disagio che riguardano la loro situazione sia sanitaria sia alimentare. Condivido la preoccupazione dei familiari e mi unisco a loro nel far appello a tutte le istituzioni e agli organismi competenti perché sia assicurato ai nostri carissimi anziani tutto l'aiuto di cui essi hanno bisogno. Aiutiamo i nostri anziani, facciamo in modo che davvero essi possano ricevere tutte le cure di cui necessitano. Io offro la mia preghiera per loro, per i loro familiari che sono in ansia, per tutti gli operatori di Villa Mercede che pure stanno seguendo con tanta apprezzione l'evolversi di questa situazione e prego anche per le istituzioni, per l'ASL, per gli amministratori locali, per il personale sanitario, perché tutti facciano la propria parte in favore dei nostri carissimi anziani. Continuo a pregare per ciascuno di voi e in modo particolare per quanti sono risultati positivi al coronavirus e su tutti invoco la benedizione del Signore.